Inizio, 2, 1, Inizio, e ripetere! All'alto, come abbiamo visti tanti, dove possiamo andare a costruire navi, costruire stazioni, minare, esteroidi, ma lo andiamo a vedere, c'è la modalità schermaglia e la modalità storia. Cosa è successo? Praticamente il sole nel nostro sistema solare sta mandando meno luce e il motivo è stato presto scoperto. Degli alieni hanno iniziato a costruire degli esagoni di fronte al sole in modo da limitare la luce, probabilmente devono assorbirla loro. I terrestri hanno tentato di comunicare con loro, ma loro hanno detto no e si sono manifestati come ostili. La guerra era quindi l'unica via d'uscita per evitare che la Terra diventi una palla di ghiaccio. Ora abbiamo diverse campagne da poter giocare, ma dobbiamo completare la prima, quindi abbiamo la campagna iniziale. Quindi, salve comandante, sono il tenente Carter, il meccanico della flotta, lascio che le mostre le navi che abbiamo. Queste sono le navi. Allora abbiamo il vascello scientifico, non ha armi, può disattivare le barriere energetiche nemiche. Interessante. Abbiamo la nave mineraria, è possibile estrarre acqua e metallo dagli asteroidi e costruire strutture come i satelliti, le torrette di difesa, depositi di risorse e anche il centro di ricerca, che qua non c'è scritto, ma che possono fare. Almeno quanto ho visto. Questa è l'incrociatore. Lento, si può rendere più veloce con i potenziamenti, può anche essere reso invisibile con la modalità stealth. Molto interessante questo. Molto, molto interessante. E siamo solo a metà delle navi, perché adesso abbiamo il caccia. Economici, veloci, possono essere potenziati con degli upgrade, quindi questa è la nave di cui ne avremo un migliaio, insomma, per poter essere competitivi. La sonda aiuterà a scoprire il mondo, è una nave veloce, molto economica, può diventare invisibile con la stealth, anche lei. E poi c'è la voce anche del narratore sotto. Piccolina, la mia creatura è una vicella di riparazione, è possibile riparare navi danneggiate. Ok, ok. Con che nave partiamo? Scegliamo la nostra flotta. Allora, l'umanità inizia a difendersi dall'invasore. La tecnologia di estrazione spaziale viene sviluppata a tempo di record. Dobbiamo andare alla ricerca di esteroide e di estrarre per iniziare la costruzione della flotta. Esplorate il mondo con cauteli e i nemici vi inseguiranno quando li troverete. Abbiamo il primo livello, prima missione di gioco, possiamo... Ah, dobbiamo costruirlo in altre missioni. Ok, sì, abbiamo poco al momento da poter mandare. Difendi la stazione spaziale, costruire e mantenere in vita 10 navi da combattimento e 3 navi minerali. Ok, iniziamo. Prima esca per avere il menu di gioco. Va bene, questi sono i consigli. Iniziamo. Allora, vi faccio vedere... Disegno molto carino. Questa è la grafica. Dobbiamo costruire 10 navi da combattimento e tenerlo in vita. Allora, questa è la nostra stazione. Possiamo mettere in pausa. Così. Ah no, non ce lo fa fare. Vabbè. Allora, praticamente possiamo andare a minare. Abbiamo le risorse, minerali, acqua, il numero della flotta e qua la flotta vista. Qua ci sono i potenziamenti che non so come funzionino effettivamente. Comunque stiamo iniziando a scavare. Qua possiamo andare a potenziare la nostra stazione spendendo dei punti. Ma al momento, vedete, possiamo andare a selezionare tutto. Tutto quello che vogliamo. Qua, all'interno della stazione, possiamo costruire una nave. Quindi l'incrociatore, il minatore, l'incrociatore non lo possiamo fare. Abbiamo bisogno di un potenziamento della stazione a livello 2. Quindi possiamo fare il caccia, forse il combattente. Sì, 20. Però acqua non ne abbiamo. Quindi devo mandare assolutamente un altro di questi a fare l'acqua. Quindi qua scaviamo l'acqua, qua scaviamo i metalli. Ovviamente le navi sono controllabili col tasto destro. Vedete? E quando entriamo in vicinanza di altre navi, basta cliccare sopra di esse e inizieranno ad attaccare. Questo gioco non dovrebbe avere tutta la componente, diciamo, di diplomazia. Ma è più un combattimento strategico, insomma, e gestione delle risorse. Ok. Le risorse non sono male. Possiamo fare un caccia. Un combattente. Vedete che l'abbiamo messo in produzione. Magari ne possiamo fare anche un paio. Ok. È arrivato. Possiamo fare il punto poi di estrazione, di raccolta, dove posizionare le navi quando escono. Infatti qua è uscita la prima. Si sta già recando sul posto. Anche la seconda. E possiamo poi tenerle qui per la difesa. Ora, dobbiamo pensare anche alla costruzione dell'incrociatore, ma dobbiamo potenziare con 75-25. Potenziamo la stazione al primo livello. Completato il primo livello, facciamo il secondo. E poi possiamo costruire l'incrociatore. Quindi iniziare ad avere più navi. Più forza militare. Allora, costruire la stazione occupata? Sì, perché si sta aggiornando. Vedete, adesso si è aggiornata. Costruiamo una nave mineraria. Non ci sono abbastanza 40-75. No, ci manca acqua. Perché con la terza almeno riusciamo a posizionare un terzo, un secondo estrattore qui nella stravedere dell'acqua. Non sono illimitati, perché comunque le unità finiscono. Poi si può esplorare, ovviamente si può andare in lontananza. Al momento possiamo prendere i nostri due combattenti con CTRL e cliccando oppure selezionandoli. Adesso devo fare attenzione. Ok. E vedete che possiamo andare a esplorare. Però bisogna fare attenzione ai nemici. Sulla mappa, vedete, potete muovervi e cliccare col destro per mandare in una data posizione una nave. Allora, possiamo costruire una terza nave mineraria che è quella che ci chiedeva la missione perché chiedeva 10 navi militari, ne abbiamo 2 e 3 navi da minaggio. Quindi adesso arriverà, è stata creata e la mandiamo a estrarre acqua. Così almeno abbiamo... è stata potenziata a livello 2 possiamo potenziarla, cioè a livello 1 la potenziamo a livello 2 in modo da poterci permettere l'incrociatore. Intanto l'unità di questo asteroide è quasi finita cioè le unità di metallo sono quasi finite quindi dobbiamo andarcene a trovare un'altra. Vedete che qua sulla mappa sono indicati con il quadratino grigio quello dell'asteroide che al momento è finito e il quadratino azzurro per l'asteroide d'acqua. ci si muove col mouse quindi non c'è il buzz in questo caso. Ok, abbiamo trovato un asteroide d'acqua ma al contempo anche una nave nemica. ok, stanno iniziando il combattimento una nave ce la siamo giocata praticamente perché hanno iniziato ad attaccare no, ce l'avevamo fatta, ce l'avevamo fatta però ce n'è un'altra quindi purtroppo ce la giochiamo. Iniziamo la produzione subito di un'altra nave combattente ed un incrociatore no, non abbiamo abbastanza risorse però l'incrociatore riusciamo a farlo il caccia riusciamo a farlo quindi lo mandiamo subito all'attacco infatti abbiamo perso le navi non è stato facile potresti attaccarlo sta avendo qualche problemino perché deve girarsi insomma ha subito un po' di danni dobbiamo fare la nave di riparazione e soprattutto non abbiamo più risorse quindi dobbiamo darcela mossa combattente riusciamo a farne uno ancora la nave non è messa benissimo però purtroppo ahimè non abbiamo il pod di riparazione ricerca sulle riparazioni eh sì, non ce l'abbiamo ancora beh, cerchiamo un altro eccolo qua meno male meno male meno male adesso bisogna fare veloce prendo questo e lo mando qua è finito anche l'altro d'acqua però acqua ne abbiamo al momento mandiamo a estrarre tutto quello che c'è qui come risorse di metallo in modo da poter ma non è lo definirei chill come gioco però come inizio di meccanica è abbastanza semplice bisogna un attimino ragionare non evitare di farla fuori dal vaso centro di ricerca vedete che qua abbiamo il centro di ricerca si possono costruire anche le torrette difensive questo è quello che costruisce il vascello minerario che è diverso da quello che costruisce la stazione postiamo questa qua vedete che adesso per fare il centro di ricerca volendo potrei no 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 costruisci 2.50 ad acqua mannaggia noi avevamo un terzo avevamo un terzo questa è messa malissimo e non possiamo neanche farla riparare credo no allora avevamo un avevamo tre navi mineralie e le abbiamo ma effettivamente non trovo la terza ah ma stiamo volando insieme queste due ok 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 una di queste tipo te porti il metallo lì e poi vai a prendere l'acqua così almeno scava l'acqua qua quasi finito no 113 dai 245 138 vediamo vediamo così vi faccio vedere anche la la ricerca costruisci 150 250 eh no l'acqua ci manca assolutamente l'acqua vediamo se ci porta via possiamo costruire un'altra stazione la tua retta difensiva ma la gioco un po' così perché voglio farvi vedere la ricerca 20 t10 diciamo che un altro lo possiamo fare un altro caccia difensiva in modo da non essere completamente sguarniti eh dovremmo eccolo lì che arriva così che andiamo in giro un po' a dare un'occhiata uno di voi va a fare l'acqua e almeno facciamo un po' più d'acqua dovrebbe andare a 250 vediamo sì questo lo definirei per uno strategico puro perché alla fine va a missioni quindi si fa mente locale ogni volta che bisogna fare qualcosa non c'è niente impossibile c'è qualcosa qui ah no quello è finito mannaggia 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 è finito ho preso un sacco di ok attaccate tutti sì dovremmo farcela abbastanza agilmente ok bravi magari difendeva un asteroide dovrei mandarli anche in pattuglia ma oh cos'è questo un campo di detriti scusate ma state andando un po' dove volete e a me non va lì c'è un nemico esploriamo nel mentre sotto scavicchiano si avrebbero subito anche abbastanza danni però tecnicamente potremmo anche solo uh possiamo farlo possiamo farlo possiamo fare il centro di ricerca allora vediamo un attimo il centro di ricerca devi metterlo però perché non me lo fa mettere ah intorno a un satellite ok dobbiamo fare un satellite quindi fai un satellite tu satellite va bene e voi intanto continuate l'esplorazione sì mi ricordavo che bisogna farlo vicino a un satellite sì se troviamo un altro un altro asteroide di 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 pietra finiamo la costruzione delle della flotta perché sono varie missioni ogni ogni campagna questo è interessante posso cliccare qua ok abbiamo fatto satellite adesso puoi farmi il centro di ricerca vicino a satellite fallo lì grazie adesso sì abbiamo ancora abbastanza risorse c'è l'acqua che manca ma l'acqua è l'unica che stiamo ancora scavando ce ne sono ancora 54 dentro il l'asteroide quindi si muove con le frecce che è quasi più comodo dico la verità c'è niente c'è niente potrei fargli pattuglia e pattugliano però no continuate a esplorare è possibile che non ci sia una strada devono esplorare tutti eccoli qua e abbiamo anche dei nemici dai abbattete i nemici da bravi questo è finito ok a posto e qua ne abbiamo un altro e qua un altro ancora fantastico questa è la svolta allora allora prendiamo la ricerca adesso ci guardiamo nave mineraria scava qui tu sei una sonda esploratrice potrebbe andare anche per i fatti suoi tu vai a scavare l'acqua ne manca uno che non so dove sia finito eccolo lì e lo mandiamo a scavare rocce oppure lui ok adesso vediamo un attimo possiamo fare costruisci l'incrociatore yes il pod di riparazione si può fare non è ancora possibile necessaria una ricerca sulle riparazioni ok quindi praticamente qui possiamo livello 1 riparazione ok queste sono le ricerche che si possono fare aumentare lo stelte di livello 1 o le riparazioni 200 d'acqua però richiede che non è poco ok l'incrociatore è una gran figata le nostre navi da battaglia le operasse in giro per la mappa dove cacchio siete e non me lo fa scegliere perché abbiamo scoperto queste cose qui e poi non so dove siano andate allora dovrebbero essere qua sì sì non stanno proprio benissimo però le mettiamo vicino all'incrociatore incrociatore che va in furtività non è ancora possibile dobbiamo ricercare questa tecnologia perfetto bellissimo l'incrociatore che è lento ma potente questa sta andando a fuoco anche lei va bene vediamo adesso con queste risorse qui quante riusciamo a farne di navi combattenti non ci sono abbastanza risorse ok va bene dai metto il punto di estrazione il punto di raccolta lo metto qua scusa tu puoi stare qui grazie vai aggiungiti anche tu anche voi due ho messo il punto di raccolta lì comunque va bene poi ne abbiamo abbiamo sette navi otto con questa ne mancano due maximum capacity costruire altri satelliti ok il satellite chi può costruirlo? costruisci il satellite ok tanto stiamo andando piuttosto bene come produzione eh queste non stanno messe benissimo dovremmo ricercare la riparazione ma serve un 200 d'acqua che è tantissimo al momento ok fatto un altro satellite le navi sono 26 quindi possiamo fare 1 e 2 quindi ci servono 40 e 20 ok metalli 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 servono eh metalli ce ne sono una voglia 194 e 318 ok 2 stanno già scavando metalli quindi una la possiamo fare subito e una la facciamo al prossimo carico tu ti sei fermato lì prosegui grazie adesso non so cosa stia scavando chi stia scavando roccia e chi pietra e chi acqua però da vicino è veramente molto carino da vedere poi non è nulla di tecnicamente miracoloso però si lascia giocare allora costruisci anche l'altra combattente perfetto quindi abbiamo una e due le flotta dovrebbe essere tutta completa adesso dovremmo avere dieci navi almeno credo che sia quello l'obiettivo cioè almeno c'era l'obiettivo della missione mantenete 10 navi da combattimento e 3 nuove navi mineralie ah ok 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 anche la mineraria ci serve 10 navi da combattimento e non ce le conta e dobbiamo fare altri minerali ok ho capito sì fatte 10 ok dobbiamo fare le navi mineralie adesso allora non sta scavando nessuno l'acqua perché siamo fermi da lì un po' scava l'acqua tu e facciamo la nave mineraria adesso possiamo no 75 d'acqua scavate tutti acqua adesso perché tu sei fermo perché stai tornando indietro ok tu hai scavato acqua scava acqua anche tu arriviamo a 75 non si può accelerare il tempo però quantità di risorse è abbastanza semplice qua sono i potenziamenti che credo sia manovrabilità accuratezza la rotazione insomma adesso questo sarà da approfondire il pannello della ricerca invece molto semplice perché da qui potenziamo una di queste lo stelt è previsto dalle navi ma al momento non abbiamo la riparazione cioè non abbiamo scusate il livello stelt quindi dobbiamo sbloccarlo e poi diventa un'abilità utilizzabile per le navi al momento 48 prossima consegna che arriverà adesso avremo modo di fare di finire la nostra flotta con di finire la missione anzi perché poi abbiamo tutte le navi e dovremo mandarle in combattimento a livello di combattimento mi aspettavo forse qualcosa in più perché non sono sempre precisissime cioè ci mettono un attimo a orientarsi poi magari sarà da sviluppare un pochino le loro le loro abilità comunque non abbiamo ancora abbastanza per il i 75 di acqua quindi aspettiamo aspettiamo ancora un attimino la visuale indietro è il massimo è questa non so qui cosa stia succedendo ma la mappa l'abbiamo esplorata in gran parte diciamo un 60% arriva 68 no ha portato materiale questo questa invece porta acqua e in italiano ovviamente avete visto per quanto non serve in giochi di questo tipo però siamo stati fortunati ok acqua arrivata produzione di minatore spero basti adesso se no mettiamo l'opera anche lui con l'acqua dipende quante ne avevamo all'inizio non mi ricordo se uno o due scavate acqua no mi sa che non c'è la data valida perché dobbiamo farne tre e ne avevamo solo due cioè ne avevamo solo uno no ne avevamo due quindi dobbiamo farne cinque in totale averne cinque quindi produrne tre ok adesso stanno scavando tutti acqua quindi l'acqua adesso risalirà velocemente verso i 75 che ci servono voi due acqua grazie tu acqua molto bene e adesso niente ci sentiamo quando avremo completato ok ci siamo possiamo fare l'ultima nave minerale che ci manca produzione in breve ho visto passare una nave qua in giro queste zone qui è passata è andata via quindi però la flotta è pronta bene prodotto questo abbiamo completato la missione distrutti 6 nemici 16 navi metallo guadagnato acqua guadagnata tempo di completamento 21 minuti ok si passerà al livello successivo abbiamo preso la medaglia d'oro alla prima missione quindi si va alla missione 2 si difendi la tua stazione spaziale deve sopravvivere costruire mantenere in vita almeno due incrociatori vediamo un attimo aspettate qua abbiamo vedete ci ha tenuto tutte le navi che avevamo con la flotta bellissimo perché ci ha tenuto conto appunto di quello dello stato della nostra flotta quindi non è staccato quindi ci sono delle progressioni all'interno della campagna giustamente quello che fate vi portate nella missione dopo ora bisogna combattere quindi bisogna fare un secondo incrociatore e resistere costruire due incrociatori da battaglia eccoli qui e ora ci attaccheranno probabilmente quindi dovremo costruire un altro incrociatore ma non abbiamo le le risorse quindi bisogna girare un pochino mandando magari questa sonda di esplorazione in giro e vedere mandare lei così se viene distrutta viene distrutta lei e nessun altro ok qua abbiamo del già del del metallo siamo sempre intorno alla terra ovviamente perché dobbiamo difenderci dagli alieni brutti brutti ragazzi questo era il gioco fatemi sapere che cosa ne pensate di extinction eclipse sviluppato dai tuanis apps che ringrazio ovviamente per la possibilità di aver registrato questo video non so direvi come vi ho detto il prezzo perché il gioco è in uscita il 17 di novembre un abbraccio a tutti fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti alla prossima e ciao 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 ciao